Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube. Mi chiamo Pier Giovanni Salimbeni e sono un giornalista specializzato nei test di strumenti ottici. Dopo aver recensito lo Zeiss Victory HT3 12x56 e lo Zeiss Conquest V4 6x24x50, ho avuto il piacere di testare, come vedete al poligono, lo Zeiss Conquest V6 2,5x15x56. Vi anticipo che questo formato tra i modelli della serie Conquest V6 è il più poliedrico e adatto a varie situazioni di utilizzo. Come sempre mi è stato gentilmente fornito dal distributore italiano Bignami che suggerisce per il mese di agosto un prezzo di 2.559 euro. Io vi invito, come sempre, a leggere l'articolo su binomania.it che è molto esaustivo. Ovviamente all'interno di questo video cercherò di sintetizzarvi le caratteristiche, i pregi e i difetti e le mie impressioni pratiche sul campo. Quindi direi di far partire la sigla, ci vediamo subito dopo. Nel frattempo, se volete, iscrivetevi al mio canale. A tra poco! La serie Conquest V6 offre una gamma completa di ottiche, tra cui l'1,16x24 per la caccia imbattuta, il 2,12x50 per l'utilizzo di urno e il 3,18x50 e il 5,30x50 per i tiri a lungo raggio. È possibile optare anche per la versione con reticolo illuminato, in alcuni casi con la torretta AS-V e con vari reticoli. Trovate comunque tutto all'interno dell'articolo. In questo caso il prodotto iniziale della gamma ha prezzi a partire da 2.049 euro. Come prassi e come vedete il cannocchiale da tiro è stato installato sopra la mia carabina Savage IG Country 110, anch'essa distribuita da Bignami. Ci troviamo di fronte a un cannocchiale d'appuntamento di qualità medio alta, con ottime rifiniture. E come sempre per quanto riguarda la linea Conquest con un ottimo rapporto prezzo prestazioni. Propone un design leggero e snello, pesa infatti soltanto 630 grammi senza binario, distribuiti su circa 34 cm di lunghezza. È composto da un tubo monolitico in alluminio con un'anodizzazione nera sabbiata. È impermeabilizzato fino a 400 millibar e riempito di azoto. La sua temperatura di esercizio è compresa tra i meno 25 più 50 gradi. Ottimo poi lo spazio tra la campana e il selettore di ingrandimento che è di ben 70 mm, mentre tra la torretta e la campana è di circa 45. Anche questo cannocchiale da tiro, come la maggior parte dei top di gamma Zeiss, è stato sottoposto a una serie di test in azienda per verificarne la robustezza e la impermeabilizzazione. Affrontato quindi la classica prova di immersione dentro una colonna di acqua, il test di urto fino a 1500 volte alla forza G con urti continuati per ben 90 minuti. È dovuto superare anche lo shock termico compreso tra meno 40 e più 50 gradi in meno di 5 minuti. Ricordo ai lettori più attenti che Zeiss sottopone ai propri cannocchiali da tiro anche un altro test molto severo. Il cannocchiale infatti è lasciato dentro una camera all'interno dei laboratori Zeiss per 24 ore, dentro una nebbia salina insieme a una striscia metallica di prova. Per superare quindi questo controllo è necessario che il cannocchiale rimanga intatto, mentre la striscia metallica ovviamente sarà totalmente ricoperta di ruggine. Da un punto di vista meccanico presenta un selettore di ingrandimento compreso tra 2,5 e 15x. La ghiera è spessa e godronata, anche se ho trovato le scanalature della godronatura un po' ravvicinate, quindi si deve applicare una presa sicura in fase di rotazione. I movimenti sono fluidi e precisi, senza blocchi o impuntamenti in entrambi i sensi di rotazione. Sono poi presenti delle tacche graduate serigrafate che rappresentano egregiamente l'intervallo di ingrandimento ai seguenti step 2,5 3 4 5 6 8 10 12 e 15. Laddove non ci sono i numeri sono presenti dei punti bianchi, anche le tacche di riferimento comunque sono abbastanza visibili. La regolazione invece diotrica del reticolo si attua girando la ghiera gommata nei pressi dell'oculare che funge quindi anche da piccolo paraluce. I movimenti sono fluidi seppur sia necessario una discreta pressione per ruotarla. Il modello Zeiss Conquest V6 che ho utilizzato è dotato anche della torretta balistica ASV. Sulla parte anteriore è presente la scritta con i mohi clic a 100 metri oltre alla direzione dell'alzo della torretta. Il diametro è sufficientemente grande per essere utilizzato anche con i guanti da tiro. Dopo aver alzerato il fucile è sufficiente utilizzare una chiave Torx per rimuovere il tappo superiore e sollevare la torretta. Successivamente si dovrà alzare il tappo della zero stop, allinearlo e riavidare il tappo superiore. Il processo è semplice e completamente affidabile richiedendo soltanto un piccolo utensile. Non ci sono quindi clip o molle che possono andare perse durante l'utilizzo pratico sul campo. È un sistema veloce e sicuro e affidabile. I clic per elevazione e la derivazione sono di un centimetro a 100 metri offrendo una regolazione semplice e affidabile con ben 200 centimetri di elevazione quindi a 200 clic di aggiustamento verticale e laterale. Sul lato sinistro del cannocchiale invece è presente il sistema di illuminazione del reticolo. Un coperchio impermeabilizzato come vedete custodisce la batteria CR2032. Il sistema di attivazione avviene estraendo a pressione la torretta. Non ci sono tacche di riferimento o numeri per regolare l'intensità dell'illuminazione ma delle semplici figure di riferimento mostrano quando il reticolo è illuminato nella maniera più intensa possibile. Non è presente un sistema di regolazione della parallasse che è stata pretarata in azienda a 100 metri quindi circa 109 yard. La torretta laterale destra è affidata alla regolazione della deriva e presenta una meccanica molto simile a quella che ho testato con il modello conquest v4 seppure in questo caso un clic corrisponde a un terzo di moa mentre il modello v4 lavorava con un quarto di moa clic. Non è molto grande meccanicamente ed è discreta e presenta tacche graduate. La regolazione della deriva però ha una bella caratteristica nel senso che può essere resettata riportando la manopola alla posizione dello zero tirandola verso l'esterna e poi ruotandola nuovamente. Un metodo molto pratico che non richiede strumenti aggiuntivi. Su questo modello è stato montato il reticolo 60 molto adatto all'attività venatoria che è un reticolo più leggero e sottile rispetto al 40 utilizzato fino a pochi anni orsono. Le barre infatti presentano la metà della copertura del precedente modello. A 12 ingrandimenti la copertura a 100 metri di distanza è di soli 0,55 mm. Un'altra caratteristica che ho apprezzato è il punto illuminato la cui estrema luminosità e puntiformità sono notevoli. Il sistema è affidato a fibre ottiche di alta qualità che consentono infatti di ottenere un punto illuminato più sottile al mondo. A 100 metri infatti attualmente ha la copertura del bersaglio di soli 3,3 mm. Anche in questo caso il reticolo è stato inserito sul secondo piano focale dell'immagine. Zeiss ha utilizzato un eccellente vetro al fluoruro shot, quindi alla fluorite sintetica, che fornisce una trasmissione luminosa del 92%, il 3% sotto la più pregiatissima gamma Victory. L'apertura massima è di 56 mm a 15x offrendo un eccellente campo visivo anche a basso ingrandimento. Il diametro effettivo della lente a 2,5 mm e di 24,3 mm. Le immagini sono risultati chiare, nitide e contrastate senza alcuna perdita di nitidezza ad alti ingrandimenti. Penso che in questa fascia di prezzo siano dei migliori cannocchiali che io abbia testato. Dal punto di vista meccanico inoltre la cella che contiene l'obiettivo da 56 mm è incastonata all'interno della campana per quasi 20, consentendo di ottenere un lieve riparo dalla luce laterale, dalla pioggia e dalla sabbia. Ricordo tuttavia che dovrebbe essere possibile acquistare opzionalmente un paraluce metallico. Per quanto riguarda invece i rivestimenti è stato utilizzato il pregevole sistema multistrato antiriflesso Zeiss T. Inoltre il cannocchiale è stato ottimizzato con il trattamento Lotutec. Anch'esso brevetto Zeiss si tratta di un rivestimento specifico olio repellente e idro repellente che evita al lato pratico, alle gocce, allo sporco e all'olio di agglomerarsi sulle lenti esterne, facilitando la pulizia degli obiettivi e l'utilizzo durante giornate umido in presenza di pioggia. Insegno un trucco ai meno esperti per verificare immediatamente sul campo quale trattamento sia il migliore. Quando vi trovate insieme ad esempio gli altri amici che possiedono altri cannocchiali da tiro o anche altri strumenti come binocoli o cannocchiali d'osservazione, potete compiere un semplice test. Il cannocchiale da tiro che mostrerà più dettagli del vostro viso quando lo avrete riflesso avrà il trattamento peggiore perché significa che la maggior parte della luce non è riuscita a raggiungere l'oculare ma è stata praticamente specchiata. Quindi se vedete pochissimi dettagli del vostro viso avrete a che fare con un trattamento in linea di massima di buona qualità e questo è di ottima qualità. L'oculare invece fornisce un fattore zoom pari a 6 per tuttavia sebbene l'intervallo di ingrandimento sia molto elevato è possibile sfruttare un ampio campo visivo. A 100 metri infatti inquadra 16,4 metri che diventano 2,7 metri al massimo ingrandimento. Per tale motivo anche l'angolo di campo sempre a 100 metri sarà compreso tra 9,4 gradi e 1,6 gradi. L'estrazione pupillare ottima di 90 mm che vi consente di gestire anche calibri pesanti con rincule avvertibili. Il diametro effettivo della pupilla di uscita è compreso tra 9,7 mm e 3,7. La pupilla di uscita si è rilevata perfettamente circolare sia ai minimi che ai bassi ingrandimenti senza effetto blue ring che è praticamente un classico anello di cromatismo laterale che può talvolta presentarsi negli strumenti ottici al bordo. È impressionante inoltre il contenimento della luce diffusa. Si nota lievemente tra i 2,5 fino ai circa 5,6 ingrandimenti. Successivamente la luce diffusa intorno alla pupilla è veramente minima, paragonabile addirittura a alcuni prodotti dal prezzo decisamente più elevato. Senz'altro è stato fatto un ottimo lavoro in questo senso. Infatti le immagini ai medi alti ingrandimenti sono ben contrastate anche in presenza di forte luce laterale. Nell'articolo come sempre troverete una lunga disamina, di solito scrivo una media di 20 pagine riguardante le aberrazioni cromatiche e le aberrazioni geometriche perché anche per gli strumenti da tiro io reputo essenziale che il lettore riesca a sganciarsi dal mero marketing quindi riesca a capire veramente le prestazioni di un prodotto. Vi posso anticipare che al centro del campo il cromatismo residuo quindi quell'alone blu verde che a volte vedete intorno alle immagini più contrastate. In questo caso nelle normali condizioni di illuminazione è ben contenuto, si inizia a notare soltanto dopo gli 8 pair, però solo su soggetti e oggetti molto contrastati come ad esempio i target bianchi qui al poligono. La resi ai bordi è perfetta come al centro. Ora invece vorrei presentarvi le mie impressioni che ho maturate dopo averlo usato qui al poligono. Vi ricordo in primis che sono presso il Tavola Montagnola in provincia di Varese, ringrazio sempre il direttore del camporatiro Germano Evangelisti per fornirmi lo spazio per insomma produrre le mie video recensioni. Vi posso confermare che il cannocchiale è molto leggero e un setup ideale potrebbe essere proprio il montaggio sulla carabina Savage Country che nel modello 1100 e nel calibro 223 pesa meno di 8 kg. Da un punto di vista ergonomico ho apprezzato lo spazio tra la torretta e il selettore di ingrandimento che è superiore ad esempio rispetto alla serie V4 e quindi consente di personalizzare meglio la posizione del cannocchiale sulla slitta della vostra carabina in base alla vostra conformazione fisica, insomma anche alla vostra posizione di mira naturale. Le torrette sono ben progettate e il compensatore di caduta dei proiettili ASV è rapido ed efficace. Anche il sistema di zero stop può essere facilmente utilizzato sia sul campo sia al poligono. Personalmente forse avrei preferito una torretta di deriva laterale leggermente più grande e magari con un bel tappo metallico ma non posso lamentarmi insomma nel prezzo devo dirvi che ci sta. Il reticolo è eccellente con una puntiformità senza sfrangiamenti grazie all'illuminazione in fibra ottica di alta qualità. Un altro pregio poi di questo cannocchiale è la sua ampia universalità. Infatti fornisce un intervallo di ingrandimento che vi ho già letto ha uno zoom pari a 6x con la possibilità quindi di ottenere un formato grandangolare utile per l'utilizzo in battuta ma anche per cercare un discreto dettaglio a lunga distanza. La nitidezza sui target rimane elevata anche a 15x. A causa però dell'assenza della torretta di regolazione della parallasse nel mero uso al poligono potrei notato un minimo errore di parallasse passando dai bassi agli alti ingrandimenti. Ma di questa caratteristica si potrebbero lamentare più i tiratori a lunga distanza che i cacciatori. In ogni modo riguardo il mero comfort sono stato in grado di trovare il mio punto di mira naturale anche passando rapidamente da 2,5x a 15x. Devo inoltre confermare che a causa della grande angolarità del cannocchiale da tiro si nota fino a circa 5x la presenza della parte finale della volata della mia carabina. Però questo fattore dipenderà anche dall'altezza degli attacchi, qua siamo a 5 mm, e dalla lunghezza della volata della canna della vostra carabina. Il punto rosso illuminato con reticolo 60 mantiene sempre il reticolo ben in vista indipendentemente da qualsiasi sfondo, condizione di illuminazione. Riguardo la meccanica delle torrette ho cercato nel breve tempo in cui è stato questo cannocchiale di verificarne la precisione e le tolleranze. Per tale motivo ho stampato alcuni target specifici facendo dei colpi al centro e poi spostando la torretta in alzo, ritornando al punto zero e poi spostando in deriva per verificare la qualità meccanica. Devo confermare, come potete vedere, dai risultati, calcolate comunque che c'è sempre l'errore umano, che lo zai sconquist sta superato brillantemente il test. Primo tiro. Ok. 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 Ok ok no beh la torretta è perfetta direi che è giunto il momento di parlarvi dei pregi dei difetti in sintesi quindi tre pregi posso citare sistema asv trasmissione luminosa ottima 92 per cento utilizzo di vetro shot alla fluorite sintetica immagini nitide contrastate senza degrado anche ad altri ingrandimenti ottima estrazione pupillare reticolo illuminato di alta qualità che è perfetto per attività venatoria tra i difetti la torretta della deriva laterale è leggermente piccola e poi c'è un'assenza della torretta di regolazione della parallasse che però come vi ho già detto risulta più essenziale 15x per tirare a lunga distanza al poligono che nelle comuni situazioni venatorie in conclusione la serie Zeiss Conquest continua a dimostrare il suo eccellente rapporto prezzo prestazioni e con il modello v6 2,5 15x56 si distingue particolarmente secondo me questo canocchiale oggetto del test pratico offre infatti delle prestazioni notevoli grazie alla compensazione balistica del sistema ASV v6 che arricchisce ulteriormente la sua versatilità con una trasmissione luminosa del 92% l'uso di fluorite con vetro shot e immagini nitide anche ad altri ingrandimenti il Conquest v6 si rivela un'ottima scelta per chi cerca un canocchiale capace di eccellere tanto nei tiri ravvicinati quanto in quelli a media lunga distanza nonostante la torretta di deriva laterale potrebbe essere più grande il Conquest v6 rimane un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze di precisione e versatilità degli appassionati di tiro per il mero uso al poligono in tal caso secondo me sarebbe meglio utilizzare la versione 530x50 e vi consiglio il reticolo 43 o eventualmente di acquistare la serie Conquest v4 che ho già recensito che monta reticoli più specifici per il tiro a lunga distanza con la compensazione laterale del vento per oggi termino qui spero che questo video vi sia piaciuto io ringrazio come sempre Achille Berti di Bignami per avere fornito l'esemplare oggetto di questo test lasciandomi come sempre libero di citare le mie impressioni imparziali come giornalista indipendente vi aspetto come sempre su questo canale ci vediamo anche sui siti ufficiali che sono binomania.it e termicenotturn.it come ultima cosa vorrei ringraziare anche tutti gli appassionati che mi seguono settimanalmente sul canale youtube e mi seguono sui siti web inoltre se volete aiutarmi a continuare la mia attività giornalistica potete iscrivervi a questo canale gratuitamente utilizzando l'icona qui in alto un caro saluto a tutti qui dal tavola montagnola in provincia di Varesera per Giovanni Salimbeni e ci vediamo la prossima puntata ciao ragazzi